Giocare contro i primi della classe non sempre un handicap A volte aiuta a tirar fuori la grinta nascosta E' necessario a gettare il cuore oltre l'ostacolo Eccellenza, Busalla Sanremese, benvenuti Subito padroni di casa davanti Pasticciaccio della difesa della Sanremese Che favorisce Ottoboni Che è freddissima e segna un gol importantissimo Che inizio pazzesco per il Busalla Grazie a un super Ottoboni 1-0 Diciottesimo, non vorremmo dover commentare tali gesti Un giocatore del Busalla cade in aria e secondo il direttore di gara Viene colpito da Fonjok, Rosso diretto e Sanremese in 10 Trentaseesimo, ci prova Rizzo dalla distanza Fuori di poco Ancora Busalla in attacco Tiro dalla distanza ma Miraglia devia sul palo Palla buona per Rizzo che segna di testa Ma il guardaline alza la bandierina Fuori gioco Sarà stata la decisione corretta? A voi ogni sentenza Appena 60 secondi dopo, calcio ad angolo per la Sanremese La palla passa e Rovella dà la zampata vincente Gli ospiti in 10 uomini riescono a pareggiare una partita davvero emozionante Cosa ci riserverà ancora questo match spumeggiante? Ventiseiesimo, ingenuità di Capra che si appende letteralmente all'avversario Per l'arbitro è giallo ma è il secondo Espulsione e Sanremese in 9 uomini Quarantesimo, angolo per gli ospiti Stacca di testa, Monti e segna Anzi no, non è entrata Per l'arbitro non è entrata Avrà preso la decisione corretta? Ci vorrebbe la Gol Technology anche in eccellenza Partita veramente bellissima Tutto sommato il risultato di 1 a 1 è corretto Il risultato di 1 a 1 è corretto